ciao a tutti ragazzi qui in arkwitz benvenuti in questo nuovo video tutorial oggi vi spiegherò come è possibile realizzare una famiglia parametrica in revit nello specifico andremo a realizzare una porta parametrica modelleremo una porta di questo tipo pertanto realizzeremo un telaio esterno andremo poi a parametrizzare dei dati delle dimensioni come la luce architettonica in larghezza e in altezza e andremo ad inserire poi un angolo di apertura che potrete gestire all'interno del vostro progetto sempre parametrizzato chiaramente e vi mostrerò poi come è possibile gestire alcune opzioni grafiche legate alla famiglia che avete creato prima di iniziare vi chiedo però di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare l'avviso di notifica per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti perfetto la prima cosa che dovremo fare sarà recarci nella scheda file nuovo famiglia e dalla scheda della selezione del file modello scegliere porta metrica aprire il file per la creazione della della nostra porta parametrica chiudere eventualmente le finestre del progetto precedenti del progetto anzi questa la lasciamo aperta iniziale dunque allora abbiamo come vedete spostandoci una vista di 3d e magari scegliendo una scala 1 a 20 per ridurre la grandezza di questo testo il file di partenza per la creazione di una porta parametrica è costituito da un telaio già esistente che lasceremo e da un muro ospitante da un oggetto host quindi per la nostra per la nostra porta parametrica quello che andremo a fare subito sarà risporci un livello di riferimento qui in piante dei pavimenti livello di riferimento e realizzare diciamo la parte restante di telaio visto che in pianta attivando una visualizzazione ombreggiata sono presenti e presente soltanto il telaio diciamo le parti di telaio a sulle facce diciamo esterne del muro quello che manca è il telaio che gira intorno praticamente all'estremità del muro in prossimità della della bucatura quindi ci disponiamo in una vista esterna differente magari attiviamo anche qui la visualizzazione ombreggiata e ci richiamo nella scheda crea bene quello che andrò a fare sarà scegliere estrusione forma estrusa scegliere come modalità di disegno un rettangolo e dispormi sul bordo interno della mia porta in questo modo fino al vertice opposto andrò questa volta a realizzare un secondo rettangolo interno al primo che ho disegnato che determinerà lo spessore della della restante parte della parte restante del telaio scelgo qui in alto offset 20 mm circa 2 cm mi dispongo nello stesso punto e vedete che questa volta per il rettangolo viene disegnato esternamente barra spaziatrice per invertirne nell'orientamento e proseguo fino al vertice opposto a questo punto eliminerò le due linee sottostanti visto che a terra non avrò non avrò il mio telaio prolungo le queste linee fino al pavimento e vado a realizzare vado a chiudere il profilo di estrusione con altri due segmenti in questo punto e in quest'altro punto adesso andrò a spostare momentaneamente questo segmento per riportarlo di nuovo sulla base in modo da visualizzare il catenaccio e vincolare anche questi piccoli segmenti farò la stessa operazione con quest'altro da quest'altro lato vincolo e confermo la mia estrusione mi dispongo in una pianta nella vista di pianta come vedete la mia estrusione è stata realizzata correttamente dovrò soltanto posizionarla nel modo corretto e portare questi bordi qui a coincidere con i bordi della parte di telaio che era già stata modellata quindi mi sposto su questa linea qui blocco mi sposto su questa linea qui blocco mi dispongo una vista di 3d e valuto se volete rimpicciolire la scritta in vista non dovete fare altro che cambiare la scala di rappresentazione a questo punto vado a scegliere nella scheda modifica il comando di unisci geometria e seleziono collego tutte le parti del telaio in modo da evitare di in modo da visualizzarla comunque tutta tutto in maniera uniforme perfetto a questo punto quello che dovrò fare sarà spostarmi nel livello di riferimento digitare la combinazione i tasti rp a tastiera e realizzare un piano di riferimento rp sta per piano di riferimento reference plane mi dispongo in questo punto traccio il piano di riferimento qui fino in basso e vado a vincolare questi due piani di riferimento attraverso una quota quindi mi disposto nella scheda di annotazione allineata realizzo una quota e blocco la blocco col catenaccio a questo punto dovremo realizzare una linea di riferimento nella scheda crea linea di riferimento che rappresenterà su questo punto qui che rappresenterà la linea su cui costruiremo il nostro battente e questo sarà il punto dove verrà innestata la cerniera pertanto rispetto al quale la nostra porta ruoterà realizzo una linea di riferimento pari alla larghezza della mia luce architettonica in larghezza 960 perfetto a questo punto dovrò vincolare questo punto sia al piano di riferimento che ho appena realizzato sia al piano di riferimento orizzontale che determina il punto di innesto della cerniera come fare? scegliere il comando allinea richiamabile anche attraverso la combinazione di tasti AL seleziono prima questo piano di riferimento mi sposto sul punto se non lo visualizzo tasto tab tab di nuovo eccolo comparso clicco blocco seleziono l'altro piano di riferimento tab visualizzo il punto lo clicco e lo blocco a questo punto qualora dovessi cambiare la larghezza della mia porta recandomi qui nella scheda dei tipi di famiglia dove visualizzo tutti i parametri della mia famiglia se dovessi cambiare la larghezza e portarla a 80 cm e applicare vedete che il punto che abbiamo appena vincolato si sposterà di conseguenza perfetto riportiamola a 1000 un metro confermo ok a questo punto dobbiamo modellare il battente della nostra porta pertanto mi dispongo una vista di 3d ecco in questo modo prima di farlo seleziono la linea di riferimento seleziona la quota questo simbolo qui in modo da creare dalla quota temporanea una quota permanente e inizio a realizzare un parametro quindi seleziono questa quota mi rego qui in alto nella scheda di modifica dinamica crea parametro andrò a creare un parametro di tipo istanza e chiamerò questo parametro larghezza battente do conferma questo in questo caso il mio parametro è stato realizzato correttamente mi rego nella scheda per valutare la creazione dei miei parametri e dico a Revit sostanzialmente di far dipendere questo parametro qui dalla larghezza della mia bucatura pertanto dirò aggiungerò una formula andrò a selezionare larghezza ctrl c per copiare disposto qui nella colonna formula sotto alla voce larghezza battente ctrl v per incollare meno 40 mm che praticamente sarebbe lo spessore la somma dello spessore sia destro che sinistro della del nostro telaio in questo punto vedete do applica ok vediamo cosa è successo perfetto vediamo se cambia di conseguenza se dovessi inserire 800 dovrei ottenere un valore di 760 applico perfetto la nostra porta il nostro parametro funziona correttamente lo riporto a un metro applica conferma ok a questo punto mi dispongo una vista 3d riduco la scala per visualizzare meglio più piccole le scritte e inizio a dovrò impostare prima un piano di lavoro per cui mi rego nella scheda crea imposta seleziona un piano mi dispongo sulla linea di riferimento tasto tab per switchare i piani di lavoro mi dispongo su questo qui verticale andrò a scegliere estrusione rettangolo con modalità di disegno mi dispongo su questo punto qui e traccio il mio battente fino a questo punto qui adesso quello che dovrò dovrò fare sarà creare una quota per creare il parametro di altezza del mio battente quindi seleziono la quota crea parametro tipo istanza altezza battente do conferma mi sposto nella scheda di controllo vado a inserire anche in questo caso una formula per cui selezionerò altezza contro c per copiare disposto nella colonna formula contro v per incollare meno questa volta 20 mm perché sappiamo soltanto il telaio nella parte superiore applico confermo il revit vedete che mi avrà portato l'altezza a coincidere con diciamo l'estremità corretta confermo l'operazione dovrò regolare lo spessore del mio battente mi dispongo in pianta non faccio altro che selezionare il corpo modellato e dargli un'estrusione qui nel pannello delle proprietà fino a 30 mm perfetto a questo punto direi che la nostra porta parametrica è stata modellata correttamente andremo semplicemente nel livello di riferimento a inserire una simbologia impianta che verrà visualizzata nel momento in cui importeremo la nostra famiglia in un nostro progetto pertanto prima di procedere però controlliamo quando quello che abbiamo realizzato mi dispongo una vista 3d apro la mia scheda tipi di famiglie dove posso visualizzare i parametri che ho che ho realizzato vado a cambiare l'altezza della mia porta portandola a 2 metri e 20 quindi 2200 mm applico e come vedete anche il battente avendo inserito la formula si sposterà di conseguenza verifico la larghezza 800 cm applico anche la larghezza funziona funziona in modo corretto riporto i valori a quelli iniziali applica conferma a questo punto mi dispongo il livello di riferimento e vado nella scheda crea a inserire la mia simbologia che dovrà essere visibile in pianta per cui inseriremo semplicemente una linea che rappresenterà il nostro battente il nostro battente in pianta con un grado di rappresentazione basso quindi e il senso di apertura quindi un arco di circonferenza dispongo nel gruppo modello linea di modello vado a realizzare le mie linee quindi avrò in questo caso una linea di 860 come vedete qui 860 e realizzerò anche linea di modello arco 3 per 3 punti perfetto realizzerò il mio senso di apertura seleziono le due linee e nella scheda di modifica dinamica mi vediamo qui sotto categoria andrò a scegliere porte proiezione anzi vediamo un po cosa ci offre andremo a scegliere porte proiezione si andremo a dare questa categoria porte proiezione al nostro battente andremo a dare qui nel pannello di proprietà come sotto categoria battente impianta per le linee di proiezione le riseleziono in impostazioni di visibilità andrò a lasciare tutti questi campi selezionati quindi come così come sono confermo l'operazione per il nostro battente anche lascerò tutto così come è non dovrò fare altro che salvare con nome la mia nuova famiglia rinominarla porta parametrica 1 perfetto aprire un nuovo progetto con un modello architettonico per template confermare andrò a realizzare velocemente un muro un muro generico da 30 cm va benissimo mi rivado nella mia famiglia vi dico a Remit di caricarla nel progetto e la inserisco all'interno del mio muro vedete ragazzi che la porta è stata inserita correttamente l'unica cosa che manca sono i nostri telai questo perché evidentemente qui nel livello di dettaglio della rappresentazione essendo impostato su basso i telai non sono visibili non dovrete fare altro che selezionare livello di dettaglio alto bene i nostri telai continuano ad essere visibili quello che dovrete fare sarà ritornare all'interno del file della vostra famiglia selezionare i vostri telai qui in alto impostazioni di visibilità selezionare la voce quando tagliato in pianta e pianta del contro soffitto ok ricarico la famiglia all'interno del mio progetto vi dirà Revit di sovrascrivere la versione esistente relativi valori dei parametri vi dico ok e in questo modo potrete visualizzare anche i telai della vostra porta potreste ragazzi decidere di visualizzare questa simbologia con le linee soltanto in un livello di dettaglio basso e lasciare invece tutti gli altri elementi come il battente, impianti e telai in livelli di dettaglio medio ed alto come fare? ritorniamo nella nostra famiglia parametrica selezioniamo le due linee in impostazioni di visibilità grafica non dovrete fare altro che disattivare il livello di dettaglio medio e disattivare anche il livello di dettaglio alto confermare l'operazione caricare nuovamente la famiglia all'interno del progetto sovrascrivendo i dati a questo punto se dovessi scegliere il livello di visualizzazione di dettaglio alto i miei simboli vanno via e potreste in questo caso lasciare soltanto il battente diciamo 3D visibile in pianta per la rappresentazione dei vostri progetti eventualmente è modificarne l'angolo di apertura di cui abbiamo dimenticato di creare il parametro per cui ritorno all'interno della mia famiglia spengo momentaneamente questo battente regandomi qui sul simbolo degli occhiali nascondo l'elemento mi rego nella scheda di annotazione quota angolare e creo semplicemente una quota angolare la seleziono crea parametro istanza angolo di apertura confermo l'operazione riattivo la visualizzazione del mio battente carico nuovamente la famiglia all'interno del progetto sovrascrivo i dati a questo punto se selezionate la porta potrete qui in dimensioni variare l'angolo di apertura se imposta un angolo di apertura di 90 gradi vedete che la porta verrà rappresentata nel modo corretto a questo punto potrete scegliere voi il tipo di rappresentazione che più preferite se non volete visualizzare il battente per esempio potrete recarvi nel pannello delle proprietà e in sostituzioni di visibilità grafica recarvi nella sezione porte spegnere battente e impianta confermare e visualizzerete soltanto la vostra simbologia in linea bene ragazzi a questo punto vi mostro anche visibilità grafica riattiviamo rapidamente il battente e impianta ok potrete nella vostra famiglia parametrica anche creare dei parametri per quanto riguarda i materiali delle vostre componenti per cui andremo a selezionare il telaio e alla voce materiale cliccate qui su questo pulsante selezionatelo associerete questo dato ad un parametro sostanzialmente creerete un parametro da questa voce vado a scegliere il nuovo parametro sempre tipo istanza materiale materiale telaio raggruppa parametro in materiale e finiture corretto confermate l'operazione confermate nuovamente e andremo a scegliere il nostro battente e andremo a creare anche un parametro per il nostro battente per cui mi mi rego anche qui nella voce materiale premo il pulsantino nuovo parametro materiale port battente tipo istanza confermo l'operazione confermo nuovamente e carico la famiglia all'interno del progetto sovrascrivo la versione esistente a questo punto selezionando la mia porta potrò visualizzare il materiale del battente e il materiale del telaio e scegliere il materiale che voglio utilizzare aprendo la scheda il browser dei materiali andrò a scegliere in vediamo un attimo un tipo di legno per il battente acero lo carico all'interno del progetto non è stato caricato perfetto adesso si confermo l'operazione mi ha selezionato acciaio non so per quale motivo acero ok e per il materiale del battente andrò a scegliere un altro tipo di legno andrò a scegliere vediamo un po' legno ciliegio lo carico all'interno del mio progetto lo seleziono confermo l'operazione perfetto a questo punto si attiva la vista in 3d imposto come livello come modalità di visualizzazione il tipo realistico dovremo visualizzare ecco qui i miei materiali possiamo come detto in precedenza variare l'angolo di apertura della porta vediamo un po' 30 gradi applico perfetto avete realizzato la vostra porta la prima vostra porta parametrica bene ragazzi potrete una volta assegnati i materiali anche stabilire i retini da visualizzare spegniamo temporaneamente il battente della nostra porta regandoci qui nella visibilità grafica opzioni di visibilità grafica spegniamo il battente confermo l'operazione andrò a scegliere seleziono la mia porta andrò a scegliere modifica del tipo modifica del tipo scusate ci dovrà essere qui da qualche parte ecco qui materiale e finiture andrò a scegliere per il materiale del telaio andrò a modificare in grafica il motivo di sezione del materiale acero per cui selezionerò per esempio un vediamo un po' legno finitura magari lo duplico finomino legno telaio porta come spaziatura tra le linee do mezzo millimetro 45 gradi va più che bene orientiamo il retino in base all'elemento confermo l'operazione confermo nuovamente come colore del retino andrò a scegliere un nero confermo applico confermo e come vedete a questo punto il retino di sezione della dimetelai sarà stato inserito correttamente in base a quello inserito all'interno del materiale perfetto bene ragazzi con questo tutorial è tutto spero vi sia piaciuto spero l'abbiate trovato interessante spero vi sia stato utile se volete che chiarisca dei punti in merito all'attuale affrontato oggi lasciate un commento qui sotto o semplicemente scrivetemi se volete che approfondisca particolari argomenti sul mio canale ciao